Ciao ormai e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest No in realtà non è un episodio di Mindtest perchè oggi non siamo sabato E sono qui giusto per fare due chiacchiere con voi Ho assolutamente bisogno di voi, del vostro parere Di conseguenza adesso vi guardate questo video E mi scrivete poi un commento qua sotto Ma ve lo dirò dopo Allora io arrivo subito al punto Sono in trattative con un network per la partnership Questo perchè magari qualcuno di voi salterà fuori con la solita storia Ah money grab, sei venduta, ecc 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 Invito quella determinata persona Se per caso si verificherà mai la presenza di questa persona A andare a controllare quanto potrei guadagnare dal Oddio sto per fare la più grande cavolata della mia vita Quanto potrei guadagnare sulla pagina Social Blade Se mette il nome del mio canale scoprirà facilmente che prenderei 30 centesimi Senza contare tutte le tasse che ci sono di mezzo Quindi senza contare il 45 per cento per YouTube Il 40 per cento per il network e il 5 per cento per Paypal Quindi il Fatti tutti questi calcoli Quanto rimane al me? Probabilmente una cosa tipo 10 centesimi Credo che il calcolo sia abbastanza facile da fare Non lo faccio assolutamente per quello io lo faccio Più che altro per la questione del copyright Ragazzi io come credo tutti gli youtuber Ho una paura abbastanza matta della questione del copyright Perché la questione del copyright rischia di farti chiudere un canale Per il fatto che magari hai pubblicato un video non giusto Che la persona a determinate persone non andava bene E di conseguenza tanti straicano il canale E in più permetterebbe la pubblicazione pianificata dei video Il che è molto comodo quando uno deve stare assente O comunque per garantirvi una certa regolarità ancora più regolare diciamo Tra virgolette Nei video Questo però implicherà anche la monetizzazione Per quello voglio parlarne con voi Non ho fretta assolutamente per dare una risposta al network E preferivo assolutamente sapere la vostra opinione al riguardo Detto questo io mi aspetto che voi mi diate una risposta Siete in 41 iscritti al mio canale E quindi vorrei almeno una decina di commenti Perché so che ci siete E so che vedete i miei video Lo so Sono dentro casa vostra Lo so che ci siete E di conseguenza scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate al riguardo Perché è una decisione che riguarda me ma riguarda anche voi Riguarda noi Siamo il canale Siamo la ciurma Io vi saluto E aspetto i vostri commenti Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi